Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo, tornando sulla vicenda che riguarda la Onewell, perché in un documento congiunto stilato questa mattina, provincia di Chieti e sindacati sono tornati a chiedere un tavolo istituzionale per cercare una soluzione all'avvertenza proprio della Onewell di Atessa. Intanto, sempre questa mattina, c'è stata nuovamente tensione davanti ai cancelli della multinazionale che produce turbocompressori. Vediamo il servizio. Ispezione dei carichi davanti ai cancelli dei magazzini di Travaglini. È qui che i lavoratori Onewell hanno concentrato la presenza con l'obiettivo di impedire la partenza dei turbocompressori prodotti nello stabilimento a Tessano. Fuori dai cancelli sono rimasti i tir provenienti dalla Romania, mentre altri trasportatori locali sono entrati o usciti con altri carichi, come ad esempio le moto Honda. La terza settimana di sciopero inizia così. Davide Labbrozzi, segretario FIOM CGL. C'è giunta notizia che l'azienda vorrebbe forzare il blocco, il presidio permanente che noi teniamo non solo davanti allo stabilimento Onewell, ma anche davanti allo stabilimento Travaglini, perché qui c'è tanto materiale. E quindi noi abbiamo oggi rafforzato, quindi intensificato la presenza, perché pensiamo che le merci debbano restare fermi qui ad Atessa, Proprio in virtù del fatto che noi abbiamo l'obiettivo di fermare i clienti. I clienti si fermano non solo se non produciamo, ma anche se le merci non partono. Il tanto atteso tavolo ministeriale del 2 ottobre non si è svolto. Ce ne sarà invece un altro al mese con il vicepresidente della regione Lolli, ma senza i sindacati. Intanto la provincia di Chiedi ha chiesto un incontro con le parti coinvolte dalla vertenza. Primiano Biscotti, segretario FIM CISL. Il nostro obiettivo è avere un incontro, e su questo anche i nostri nazionali stanno facendo pressione sul ministro Calenda, per avere un incontro dove questa azienda deve dirci chiaramente le sue intenzioni. Ad oggi l'unica cosa che trapela, visto che vogliono venire a caricare i turbocompressori, è quello di chiudere questo stabilimento. Chiaramente noi dall'inizio abbiamo detto che non lo possiamo permettere, questo territorio non se lo può permettere, questa non è una battaglia di questi 420 lavoratori, ma è la battaglia di tutto il territorio che non può permettersi di perdere questi posti di lavoro. Anche la provincia ha chiesto un incontro al ministro, però la cosa che ci sconvolge è il fatto che tutti sono stati convocati e l'interlocutore principale che siamo noi sindacato, ad oggi non abbiamo ancora una convocazione di incontro. È in materia sindacale, quindi sarebbe naturale che ci sia un incontro dove c'è l'interlocutore naturale che siamo noi, ma ad oggi, e questo preoccupa molto, proprio perché non cercano il dialogo, non cercano la soluzione al problema. Ci spostiamo a Teramo adesso perché il comune ha un bilancio passivo di meno 15 milioni di euro ed è necessario intervenire con opportuni rimedi. Lo afferma la Corte dei Conti che in una delibera richiama l'ente terramano a sanare il prima possibile lo squilibrio finanziario. Il servizio di Tania Bonnici. Castelli. La Corte dei Conti lancia l'allarme sui conti in rosso del comune di Teramo. La sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, dopo un attento monitoraggio con riferimento al periodo gennaio-agosto 2017, ha evidenziato per il comune di Teramo un disequilibrio di cassa pari a meno 15,2 milioni di euro, corrispondente al 42% delle riscossioni di parte corrente. Il collegio della Corte dei Conti sottolinea che il verificarsi di un deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e trovati gli opportuni rimedi. Cos'è che non va nei conti del comune di Teramo? Ma è l'anticipazione di desideria che è un problema noto e ovviamente ha raggiunto un livello di guardia da monitorare sul quale occorre fare adesso delle azioni straordinarie per ridurla drasticamente e per evitare che l'impatto degli oneri finanziari connessi poi ovviamente vada a incidere anche sulla spesa corrente. Ma in parole semplici non abbiamo più soldi? Non è che non abbiamo più soldi, è una facoltà che viene concesso agli enti locali, buona parte degli enti locali purtroppo è in questa condizione, cioè nel momento in cui c'è una discrasia tra le entrate e le spese, il comune ha la facoltà di potersi ovviamente approvvigionare presso il proprio tesoriere che nel caso di specie è l'ex bancaterca sorgi popolare di Bari. Ma costerà questo? Ovviamente, ovviamente, mentre fino a due anni fa la convenzione di tesoria che avevamo sottoscritto, è una convenzione particolarmente favorevole perché prevedeva un euribor molto basso, prossimo allo zero, quindi sostanzialmente noi utilizzavamo denari senza corrispondere a alcun che, adesso con l'aggiudicazione della tesoria la Tercas ha applicato una percentuale, un tasso, il 4%, con un costo del servizio di 40.000 euro, ragion per cui il costo ovviamente è sensibilmente maggiore. Chi è che non vi paga? Ma non ci paga soprattutto gli enti sovraordinati, noi abbiamo 15 milioni di euro da incassare tra Ruzzo, circa 4 milioni di euro, poi abbiamo la Regione, abbiamo anche dei soldi ministeriali. Ruzzo, Regione, ma anche Team? Anche Team, ma la Team riguarda soprattutto il problema degli incassi, questo è un tema annoso, anche questo, abbiamo un'importante somma da entroitare, dai cittadini, relativa alle tariffe, ma quello purtroppo è un problema che risiede soprattutto nel fatto che la tariffa oggi, verosimilmente, deve essere ancora contenuta. Il Movimento 5 Stelle di Teramo, considerando gravissima la situazione finanziaria del Comune, chiede che sia convocato immediatamente un Consiglio Comunale straordinario affinché si provveda, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, all'aduzione di interventi urgenti. A poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, ancora ladri nella notte nella scuola media Umberto I, a soli 4 mesi dall'ultimo furto, che era avvenuto lo scorso 22 maggio, a pochi mesi dal ride, che costò ben 20 computer portatili, acquistati grazie ad una colletta fatta da professori e genitori. Vediamo. Da gennaio 2015 a ottobre 2017 sono quattro i furti messi a segno dai soliti ignoti all'Aumberto I di Lanciano, dei veri e propri ride che hanno avuto come obiettivo principale il furto dei computer. Questa volta dalla scuola media di Viale Cappuccini ne hanno asportati sette e hanno scelto i migliori, commenta la dirigente scolastica Anna Maria Sirolli. Non solo computer, però, i ladri hanno asportato anche due videoproiettori, un portatile e un tablet. E non contenti hanno poi aperto anche la cassaforte, utilizzando una mola. L'ultima volta non c'erano riusciti e l'avevano abbandonata. Dentro, però, hanno trovato solo documenti e diplomi da consegnare. Sfiore 10.000 euro il valore del materiale informatico asportato. Adesso si contano i danni provocati alla struttura tra porte e infissi divelti che il comune, ente proprietario, farà riparare. I ladri sono entrati nella scuola attraverso una finestra del pian terreno dopo aver forzato l'infisso e devono essere rimasti parecchio tempo all'interno del plesso scolastico perché hanno visitato tutti i piani dell'edificio, riferisce la dirigente. Non possiamo stare tranquilli, commenta, sgomenta dopo l'ennesima mattinata trascorsa a fare la conta dei danni. Anche le macchinette erogatrici di snack sono state prese d'assalto e svuotate delle monetine. L'amministrazione comunale di Lanciano cercherà i fondi in bilancio per dotare le scuole medie della città di impianti di sicurezza. Andiamo a pescare adesso. Presentato oggi il piano Export Sud che sarà realizzato dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero in collaborazione con la Regione Abruzzo e coordinato dal Centro Estero Abruzzo. Il piano di lavoro pluriennale è volto alla promozione e formazione delle imprese in svariati settori economici. Paolo Renzetti. Presidente Beci, arrivano fondi europei per l'internazionalizzazione delle imprese abruzzesi. Benvengano i fondi europei. È un piano di quattro anni con un impegno di spesa di 6 milioni e 600 mila euro con la possibilità di essere incrementato su un tema che è quello dell'internazionalizzazione dove il sistema camerale siamo particolarmente attenti perché sappiamo benissimo che oggi i più che il nostro PIL sta presentando molto è dovuto all'export. Finalmente c'è una sensibilità e c'è un'attenzione particolare perché il mondo delle imprese che guarda all'export si sta sempre di più allargando. Molte piccole imprese stanno cercando nuovi mercati. Il nostro compito, quello del sistema camerale italiano, quello in particolare oggi, quello del centro estero delle quattro Camere di Commercio abruzzesi è di guardare i mercati internazionali. Questo ossigeno, questo segnale finalmente assolutamente positivo ci fa guardare sicuramente con più ottimismo il futuro. Oggi viene presentato il nuovo piano per l'export sud che viene curato da Lice, l'Istituto per il Commercio Estero, già da alcuni anni per le regioni del sud. Da quest'anno su iniziativa delle altre regioni, quelle cosiddette in transizione, l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna, questo progetto viene esteso anche a queste tre regioni per andare a promuovere i prodotti nell'internazionalizzazione su determinati mercati che hanno dato una risposta importante per le aziende italiane. Quindi riuscire ad inserire le aziende abruzzesi in questo contesto come partecipando a delle fiere, finanziando dei B2B, degli incoming, degli showroom e anche facendo un'attività di formazione all'interno delle aziende con un export manager che le affianca in questo importante compito di internazionalizzazione. Il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano torna ad esprimere dubbi sulla legittimità del sistema di assunzione sul doppio incarico del presidente di Ecolan. La società partecipata pubblica che si occupa della gestione della nettezza urbana in diversi comuni della zona frentana. Vediamo. Il dubbi mi era sorto quando fui io a dover dire a voi della stampa che era stata fatta questa scelta da parte del CDA dell'Ecolan, cioè di nominare il presidente stesso anche direttore e non dallo stesso CDA. Evidentemente c'era qualcosa che preferivano tenere sotto traccia. E allora mi sono andato a vedere le norme e credo, non ne sono convinto, per questo le richiedo all'ANAC di darmi conferma, che questa duplicazione non sia in sintonia con il decreto legislativo 39 del 2013. E di questo chiederò all'ANAC con chiarezza. Così come vorrei chiedere se anche per quanto riguarda la stabilizzazione del personale che da precario è diventato stabilizzato all'interno della società stessa, se siano stati seguiti tutti i requisiti di norma. Anche qui chiederò all'ANAC di pronunciarsi. Ricordo a me stesso che quando l'ultima volta chiese all'ANAC di pronunciarsi circa la legittimità in carico del rettore D'Amico a presidente della tua, l'ANAC mi diede ragione e conseguentemente poi D'Amico opportunamente si dimisse. Ora ritengo di dover sollecitare nuovamente l'ANAC su due principi che, come ho spiegato in conferenza stampa, uscitando anche gli articoli e le norme che mi avviso vengono non rispettate potrebbero trovare illegittimità nella procedura. Di conseguenza aspettiamo l'esito. Ci spostiamo all'Aquila adesso. Liste di attesa lunghissime. È impossibile dunque fare logopedia in ospedale dopo un ictus molto grave. La denuncia del marito paghiamo privatamente ma la nostra battaglia non finisce qui. Il servizio di Daniela Rosore. Le mille spine della sanità pubblica. Se puoi pagarti dei servizi li hai subito, altrimenti sei abbandonato al tuo triste destino. Le lunghe liste di attesa della sanità pubblica spesso scoraggiano e sempre più spesso i cittadini si rivolgono altrove. Ma non è giusto. Certo, chi può permetterselo sia chiaro. Oggi vi raccontiamo la storia di una nostra telespettatrice. In primavera la donna aquilana ha un ictus. Dopo una lunga degenza passata da rianimazione, neurologia e riabilitazione all'Aquila, a fine giugno torna a casa con la prescrizione di riabilitazione motoria e logopedia. Ma qui sorge il problema. I logopedisti all'ospedale dell'Aquila sono pochi e non riescono a soddisfare tutte le richieste, le risposte tutte negative. Allora perché ci chiediamo, viene prescritta dall'ospedale la logopedia, se poi già si sa che il loco non si potrà fare, a meno che si possano attendere anni per avere un appuntamento seguendo le liste di attesa? Logopedia a pagamento, questa la soluzione e passa la paura, 35 euro a seduta. Logopedia, chiariamolo bene, assolutamente necessaria in quanto l'ictus ha fortemente danneggiato le corde vocali alla signora e ogni tentativo di deglutizione provoca soffocamento. Le risposte date al marito sulle liste d'attesa? Un problema tutto italiano. Ovviamente nessuna polemica rispetto agli operatori, sempre solerti e gentilissimi, ma è il sistema che non va. Una battaglia che ci sentiamo di sostenere, anche perché annunciano questi telespettatori, non finirà così. Presentato a Francavilla, il progetto Abruzzo include, si tratta di tirocini extracurriculari per soggetti svantaggiati, interventi di inclusione sociale, anche lavorativa. L'iniziativa è stata illustrata dall'assessore regionale, Marinella Sclocco. Vediamo. Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale va in questa direzione, questa importante iniziativa, assessore Sclocco? Sì, quest'anno abbiamo anche aumentato i fondi perché da 3 milioni e 2 siamo passati a 3 milioni e 6, consentendo quindi a 600 cittadini abruzzesi che sono esclusi completamente dalla vita sociale e soprattutto dalla vita lavorativa possano avere un'opportunità. abbiamo anche aumentato quindi anche il numero dei mesi in cui potranno fare il tirocino perché da 6 mesi potranno farne 12, aumentando quindi la possibilità di poter essere poi impiegati a tempo determinato o indeterminato. Abbiamo 80 tirocini extracurriculari in partenariato con il Comune di Chieti e il Comune di Guardia Grele, Francavilla Capofila e abbiamo un partenariato ampio che è poi la forza di questo progetto ma proprio dell'iniziativa regionale, un partenariato pubblico privato dove all'interno abbiamo agenzie per il lavoro, enti di formazione, enti datoriali e soprattutto organismi del terzo settore, quindi cooperative di tipo B e associazioni. Questa è la forza di questo progetto, al di là appunto dell'inclusione sociolavorativa che è importantissima, Abruzzo include, ci consente per la seconda volta di sperimentare dei partenariati pubblico privati che a mio avviso hanno proprio l'obiettivo di diventare, di autosostenersi nel tempo, quindi non più una mera logica di assistenzialismo ma modelli proprio di organizzazione e gestione che ci possano consentire nel tempo di creare proprio dei meccanismi virtuosi di sostegno all'inclusione. Abbiamo, ci rivolgiamo a soggetti svantaggiati, molte volte proprio caratterizzati da un doppio svantaggio, quindi non solo povertà certificata ma tutti i soggetti, i nuovi ingressi, quindi gli immigrati, tutte le persone che vengono da un'esperienza di dipendenza, quindi ex tossicodipendenti, ex alcolisti ma anche ex detenuti, donne vittime di violenza, senza tetto. Questo è il panorama a cui ci rivolgiamo e siamo convinti che come nella prima esperienza anche in questo caso avremo una percentuale di successo importante. Andiamo a Chieti adesso perché questa mattina sono stati illustrati dal sindaco Umberto Di Primio i lavori di completamento del nuovo tunnel pedonale ai piedi della Scala Mobile. Prima una cattiva progettazione, poi il fallimento e poi la necessità di reperire fondi ha fatto rischiare che quest'opera non potesse completarsi. Adesso abbiamo possibilità di farlo, abbiamo fondi regionali e fondi comunali per realizzare quest'opera, abbiamo circa 450 mila euro da investire per il completamento del tunnel che collegherà il parcheggio di Via Gran Sasso alla parte alta della città, a Largo Barbella, ma voglio però significare come questo è soltanto uno degli elementi del sistema della sosta e della mobilità, sia pedonale che veicolare, che noi abbiamo disegnato e immaginato in questi anni. Perché insieme al tunnel che verrà completato vi è il progetto di rifacimento del terminal bus nel quale noi ci troviamo, progetto finanziato con il masterplan e affidato a TUA per l'attuazione. Vi è il fondamentale, secondo me irrinunciabile, progetto da portare avanti, che è quello del raddoppio del parcheggio di Via Gran Sasso per arrivare ai 400 posti auto, progetto finanziato all'interno del decreto periferie che la mia amministrazione ha intercettato con il governo nazionale. Ma non dimentichiamo che vi è il rifacimento di Piazza San Giustino, che finalmente potrà essere consegnata alla città come un luogo non di parcheggio ma da vivere. E vi è ovviamente anche l'altro elemento fondamentale per l'arroccamento al centro storico, che è la scala mobile, che verrà rigenerata, deve essere rigenerata, perché nel 2019 scadranno le certificazioni e quindi all'interno del decreto periferie c'è anche la possibilità di finanziare la rigenerazione della scala mobile. Ecco, con tutta questa serie di interventi sulle infrastrutture io credo riusciremo per davvero a dare risposte, non a un'opera incompiuta, ma a dare risposte alla mobilità e alla sosta che ci viene richiesta sul centro storico. 450 mila euro sono l'investimento complessivo per il rifacimento del tunnel, sei mesi dal prima settimana di novembre, perché le opere siano riconsegnate alla città. E apriamo adesso la pagina di sport, iniziamo con il Pescara, reduce dalla vittoria al Cabassi di Carpi per 1-0. Noi andiamo ad ascoltare il match winner della partita di Carpi, Cristian Capone, che contro il Cittadella domenica prossima alle 12.30 non ci sarà perché impegnato con la nazionale. Lo ascoltiamo. Sì, siamo contenti di essere tornati alla vittoria dopo quattro pareggi di fila, sono contento per il gol, con il Cittadella non ci sarà un peccato, ma sono sicuro che la squadra farà bene. Quanto è importante questa vittoria per la squadra, per la classifica, per l'ambiente? Sì, sicuramente è una importantissima vittoria per noi, ci dà fiducia, ci dà coraggio per le prossime partite. Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, poi grazie al cross del sole, non dico di balì, ho fatto un bel taglio sul primo palo e sono riuscito a fare gol. Si può dire che nelle ultime due partite si è visto in campo un Pescara un po' meno Zemaniano, avete concluso un po' meno in porta ma avete corso molti meno rischi rispetto al passato? Sì, sicuramente oggi rispetto alle altre gare abbiamo rischiato meno in fase difensiva, siamo contenti, ora sono sicuro che la squadra durante la settimana si allenerà bene per il Cittadella e farà un grande risultato. Sono contento per il mio avvio, è ancora lungo il campionato, devo e dobbiamo continuare così perché l'importante è che la squadra riesce ad arrivare più in alto possibile. Questa vittoria può rappresentare una prima svolta del campionato, dopo il successo con il Foggia c'erano stati questi pareggi, tra l'altro immeritati perché avevate fatto molto di più delle formazioni avversarie, ora questa vittoria tra l'altro in trasferta regala gran morale alla squadra in vista del proseguo della stagione. Sì, è vero, come dici tu, dopo la prima partita con il Foggia che avevamo vinto con quattro gol di scarto, sono arrivati questi quattro pareggi immeritati, però ci aiutano a crescere e oggi è arrivata una vittoria finalmente e ci dà molta fiducia. A livello tattico diciamo che dall'inizio a oggi stiamo continuando con lo stesso lavoro, magari siamo più bravi a difendere, ci difendiamo meglio e questo ci porta come oggi a vincere la partita. Successo importante che avete festeggiato al 91esimo sotto il settore dei tifosi, questi tifosi che hanno sempre seguito la squadra in casa e in trasferta e che aspettavano questa vittoria. Sì, è vero, siamo contenti, siamo andati a esultare con i nostri tifosi che anche oggi erano in tantissimi e ci danno sempre grande sostegno e questa vittoria la dedichiamo anche a loro. Oggi è arrivato questo terzo gol, l'ultima battuta, ti sei posto un limite, quanti gol cercherai di segnare? Hai pensato ad una cifra che sarebbe per te ideale in questa stagione, prima stagione in Serie B? Ma no, io penso fare bene ad aiutare la squadra, poi spero di fare più gol possibili in questa stagione, come hai detto te, la mia prima da professionista e niente, speriamo di continuare a segnare. Scendiamo in Serie C, adesso pareggio senza reti per il Teramo in casa contro la Fermana, finisce 0-0 la partita contro la squadra del grande ex Marco Sansovini. Andiamo a vedere il servizio della partita realizzato da Ania Cantagalli e poi a seguire l'intervista al tecnico biancorosso Antonino Asta. Un punto ed un carattere da salvare dopo il K.O. di Pordenone, ma il Teramo che non va oltre lo 0-0 contro la Fermana lascia il Bonolis con il dubbio di un gol, non un gol di Tulli e tanta pratica ancora da fare per essere più pericolosi in avanti. Asta conferma il Teramo delle ultime uscite come nelle attese, mentre dall'altra parte la sorpresa dal primo minuto è il grande ex della gara Marco Sansovini che parte titolare accanto a Lupoli al posto di Cremona. Sarà una prima frazione giocata soprattutto sul piano del carattere. Il Teramo protesta in avvio per un contatto dubbio in area con Ilari e Foggia che cadono a terra e con il direttore di gara che lascia proseguire. Sansovini, fischiato in occasione di ogni errore, prova la girata al volo dopo il quarto d'ora, ma Colore para senza problemi. Un minuto più tardi arriva l'occasione più nitida per i biancorossi. Tulli da calcio di punizione, pennello un pallone che sembra destinato in rete, ma Valentini con un grande intervento riesce ad allontanare la sfera. Per la Terna la palla non ha avvarcato la linea, ma qualche dubbio resta. Senza Madio, ancora infortunato, De Grazia si carica di nuovo la squadra sulle spalle e prova spesso e volentieri il tiro dalla distanza, senza fortuna. La fermana riesce di rado ad affacciarsi in avanti. A mezz'ora Calore preferisce mettere in angolo un tiro dalla distanza di Petrucci. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è il tempo di vedere Tulli non inquadrare lo specchio della porta col mancino. Asta però non è soddisfatto della prova di bacio Terracino, ancora sottotono. Al suo posto in avvio di ripresa c'è subito Barbuti per un 4-3-1-2 in cui tocca Tulli e gira le spalle delle due punte centrali del Teramo. Il cambio modulo però dura giusto il tempo di vedere entrare al dodicesimo alcuni dubbi settimanali di Asta, su Mare e Graziano, al posto di Varas e di un Foggia già munito e non contento di uscire. La fermata vede invece in avvio di secondo tempo Petrucci stare stabilmente in avanti dalle parti di Sansovini e di Lupoli. La gara del grande ex finisce tra i fischi al 23esimo per lasciare il campo un altro ex Teramo, Victor da Silva. Di occasione però neanche l'ombra. L'ingresso in campo di Sumare rivitalizza parzialmente i biancorossi ma non li rende mai davvero pericolosi in avanti. Per vedere la prima parata della ripresa di Valentini bisogna aspettare il 48esimo con un tiro da fuori aria di Ventula innocuo. Il Teramo si prende quindi un punto buono per riprendere la marcia dopo il K.O. di Pordenone in una gara non gestita complessivamente bene dal direttore di gara, squadra che si siede invece ancora sui banchi di scuola per rendere il Bonolis quella tappa da sfruttare sempre al massimo nella corsa alla salvezza. Giovedì contro la Feralpi Salò ci sarà un nuovo esame. Giovedì c'è un'altra partita. Noi avremo adesso un tritico di squadre importanti tra quelle che si giocheranno le prime posizioni. Feralpi Salò, Bassano e Padova. Noi in casa dobbiamo fare questo, quello che abbiamo fatto oggi. Deve essere il nostro fortino, non in modo o nell'altro. Oggi c'è stato questo perché gli avversari fanno solo un tiro in porta che arrivavano da tre vittorie facendo tanti gol, 5-3-2 e gol ad ogni partita. Quindi vuol dire che davanti oggi siamo stati molto bravi sia alla difesa, tutti accompagnati dai centrocampisti a raddoppiare. Abbiamo dato veramente il minimo indispensabile e adesso pensiamo subito a Feralpi Salò. Non è detto che possa cambiare, come vi dicevo, anche in presentazione ieri della gara, anche in futuro sia il sistema di gioco e anche qualche giocatore perché le tre partite ravvicinate devono anche far capire agli altri di avere spazio ma una volta che hai spazio devi dimostrarlo. Andiamo all'Aquila per parlare di rugby. Soluzione ad un passo per scendere in campo già dalla seconda giornata. Il club nero-verde si impegna a dare alla polisportiva 30.000 euro entro la fine della stagione. Sembrano dunque superati per ora i dissidi mentre i tifosi si attivano per una raccolta fondi. Vediamo il servizio. Sembrerebbero in via di risoluzione i vecchi rancori mai risolti tra la polisportiva all'Aquila Rugby e l'Aquila Rugby Club che non hanno permesso all'Aquila Rugby Club di scendere in campo al fattori domenica 1 ottobre nella prima giornata di campionato di Serie A contro Prato Sesto. Motivo del dissidio sarebbe stata l'incapacità dell'Aquila Rugby Club di onerare l'impegno economico di 25.000 euro preso con la polisportiva in cambio di 8 giocatori necessari per completare la rosa. Al momento va definendosi un accordo con la polisportiva che prevede l'impegno di 7 giocatori con il passaggio definitivo dei regbisti Cialente e Ponzi per 7.500 euro ciascuno e il trasferimento in prestito di Angelini, Troiani, Tinari, Pupi, Sansone e Cialia. La rosa pertanto raggiungerà i 28 atleti che permetteranno all'Aquila Rugby Club di disputare il campionato a partire dalla seconda giornata. L'Aquila Rugby Club si è impegnata a derogare 30.000 euro entro la fine del campionato. E mentre domenica si è sperato fino all'ultimo momento in un qualche positivo colpo di scena, i giocatori e i tifosi si sono comunque incontrati davanti lo storico stadio Fattori per trovare insieme una soluzione che consenta alla squadra di far fronte a questa insidiosa crisi. Perché come hanno scritto gli atleti nella loro lettera aperta con cittadini aquilani, l'Aquila Rugby è una squadra che hanno provato a dividere senza riuscirci, unita da qualcosa di più di una semplice amicizia sul campo. E i tifosi hanno risposto con un comitato cittadino Save l'Aquila Rugby. L'appuntamento sarà il 3 ottobre, martedì, all'auditorium del Parco del Castello alle ore 19.30 per sostenere la squadra con una raccolta fondi. Intanto l'amministratore delegato Antonio Di Giandomenico ha presentato le sue dimissioni. Di Giandomenico ha cercato di sostenere la squadra per quanto possibile, visto che il rugby e i colori neroverdi sono per la città uno sport identitario. I coach Troiani e Rottilio restano come tecnici al fianco dei giocatori, che hanno affrontato lo scorso campionato con una determinazione e una grinta fuori dal comune incuranti delle enormi difficoltà. Ed è proprio su questi ragazzi che coach Rottilio pone attenzione. Atleti come Angelini, Rettagliata, Giorgio e Nicola, Rossi, Vaschi, Cerasoli, Bascia, Barducci, Ponzi, Ciofani, Fusco, Carnicelli e Speranza, che pur avendo ricevuto convenienti offerte da altre società, hanno deciso di rimanere all'Aquila. Sostegno neroverdi anche dal mondo del calcio. I rosso-blu aquilani hanno vinto con l'Agnonese 2-1 e mister Battistini è sceso in campo con la maglia del rugby neroverde, dedicando proprio agli atleti aquilani la vittoria. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con Replay. Un'ora e 30 minuti per parlare della situazione del Pescara. Ovviamente conduce Enrico Rocchi. La TG6 torna invece alle ore 23 con la terza edizione. È tutto. Buona serata. Grazie a tutti.